A tutti benvenuti in nuova edizione del nostro telegiornale che vede in primo piano la politica in vista del ballottaggio del prossimo 25 giugno sarà quello di Maria Obinu il primo nome sulla scheda elettorale questa mattina il sorteggio per la posizione dei candidati in comune a Oristano intanto alla scadenza fissata per ieri nessuna richiesta di apparentamento sentiamo Mariana Guarna Sarà una partita d'armi pari tra Andrea Luzzo e Maria Obinu senza alleati dell'ultima ora nessun apparentamento tra vincitori e vinti in vista del ballottaggio di domenica all'ufficio elettorale del comune di Oristano allo scadere dei termini nessun accordo è stato depositato sarà dunque il più tradizionale dei confronti da una parte l'esponente del centrodestra sostenuto da Forza Italia, Riformatori, Fratelli d'Italia, Forza Paris e la civica un'altra Oristano la coalizione al primo turno aveva ottenuto il 29,6% delle preferenze dall'altra l'assessore uscente che è appoggiata da partito democratico, sardisti, socialisti e le civiche Noi Or, Oristano nel cuore e valore comune lo scorso 11 giugno aveva catalizzato il 21,8% dei voti entrambi impegnati in una febbrile campagna elettorale nel tentativo di accaparrarsi il favore di quegli 8.000 elettori che al primo turno si erano espressi a favore di Vincenzo Pecoraro, Filippo Martinez, Anna Maria Uras e Patrizia Cadau sulla bilancia potrebbero influire anche i tanti voti annullati in fase di spoglio frutto di un'errata espressione del voto disgiunto questa mattina intanto la commissione elettorale circondariale ha effettuato il sorteggio per la posizione dei candidati alla carica di sindaco nelle schede e nei manifesti elettorali il primo posto è toccato al candidato Maria Ovinu, ad Andrea Luzzo il secondo posto come è accaduto per il primo turno anche il prossimo 25 giugno lo spoglio avrà inizio alle 23 alla chiusura dei seggi nuova televisione sarà in diretta per raccontarvi in tempo reale i risultati che porteranno alla proclamazione del nuovo primo cittadino ristanese e una donna il vice questore vicario di Oristano si tratta di Rita Cascella originaria del Lazio laureata in giurisprudenza è entrata poi nella polizia di stato dove nel 1992 ha ricoperto l'incarico di dirigente del servizio di prevenzione generale di Perugia ha poi guidato i commissariati di Assisi, Latina e Terracina, arriva da Prato dove fino a pochi giorni fa è stata dirigente della polizia anticrimine Vandali in azione a Sili, ignoti hanno applicato un rogo che ha reso inagibile parte della struttura da tempo il campo sportivo è preta di teppisti, sentiamo Le fiamme non hanno lasciato scampo distruggendo gli spogliatoi del centro polivalente di Sili un atto vandalico che segue a distanza di qualche mese un altro episodio simile è accaduto nel campo sportivo di Torangius stavolta i vandali hanno preso di mira la frazione oristanese e soprattutto uno dei luoghi simbolo per l'intera comunità un posto in cui i bambini e i ragazzi si ritrovano per giocare e dar sfogo alle loro passioni il rogo nel quale sono stati bruciati rifiuti e scarti di lavorazione ha danneggiato seriamente gli interni della struttura sportiva qualche tempo fa una ditta di oristano a giudicataria dell'appalto aveva avviato i lavori di ristrutturazione lavori che poco tempo dopo sono stati sospesi ora gli impianti sportivi sono un cantiere a cielo aperto il cancello principale non è mai chiuso lasciando campo libero ai teppissi i locali in cui erano state eseguite delle migliorie come ad esempio gli spogliatoi sono stati devastati nel giro di poche settimane quello che ci si trova davanti è uno spettacolo poco edificante infissi di velti, impianti elettrici e idrici danneggiati al momento non si conosce l'esatta stima dei danni quel che è certo è che a pagare sarà l'intera cittadinanza con fonti pubblici il comune di Oristano ha pubblicato i bandi di mobilità per un posto di agente di polizia municipale un posto di ufficiale della riscossione per entrabbe le posizioni e le domande devono essere presentate entro e non oltre il 18 luglio 2017 sono stati prorogati a venerdì 23 giugno i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla seconda edizione del concorso di pittura emozioni di Sartiglia bandito dalla fondazione Sassartiglia Onlus l'obiettivo del concorso è promuovere la giostra equestre per valorizzarne il patrimonio storico e culturale attraverso opere che la rappresentino la partecipazione al concorso è aperta a tutti ed è gratuita le opere possono essere realizzate in piena libertà stilistica e tecnica purché si tratti di un'opera pittorica il vincitore si aggiudicherà un premio in denaro di 2000 euro le domande di partecipazione corredate da un breve profilo dell'autore da una scheda di presentazione dell'opera unitamente all'opera in concorso dovranno essere presentate entro venerdì 23 giugno presso gli uffici della fondazione che resteranno aperti da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 davanti a un pubblico competente e appassionato nella Basilica Minore si è tenuta con pieno successo la diciassettesima edizione di Cantos de Beranu ospiti dell'associazione culturale Coro Bonacatu il Coro Sibila di Macerata e il Coro Santa Ossino di Alà dei Sardi e allora andiamo a Bonarcado con Piero Maroncio va in archivio con piena soddisfazione di tutti la diciassettesima edizione di Cantos de Beranu ospitata nella Basilica Minore di Nostra Signora di Bonacatu gentilmente concessa per l'occasione dal priore Don Isidoro Meloni la rassegna buonarcadese che negli anni è ospitato il meglio della polifonia isolana e nazionale dedicata ai canti di ispirazione popolare prosegue nella sua opera di promozione e valorizzazione della tradizione locale e non e come da tradizione appunto consolidata nel tempo anche l'ultima edizione ha proposto alcuni gruppi di grande interesse che hanno riscosso il gradimento incondizionato del numeroso pubblico che ha affollato la chiesa l'evento organizzato come di consueto dall'associazione culturale Coro Polifonico Bonacatu presieduta da Sergio Mallai e diretta dal maestro Michele Turnu alla presenza del sindaco Franco Pinna ha ospitato il Coro Sibila di Macerata che è in attività da oltre 40 anni diretto dal maestro Fabiano Pippa e il Coro Sant'Austino di Alà dei Sardi diretto dal maestro Silvio Bossi Coro Sibilla nato nel 1976 conta su 31 elementi e prende il nome dell'omonimo monte del gruppo dei Sibillini residenza in cui dimorava come la leggenda dice la Sibilla Penninica l'associazione culturale Coro Polifonico Sant'Austino invece nasce nel 2010 con lo scopo di promuovere la musica in generale sia sacra che profana la rassegna nata per diffondere la peculiarità stilistica del canto a più voci si è ormai ritagliato uno spazio importante nel panorama degli eventi culturali del territorio tanto che l'appuntamento bonarcadese è diventato imperdibile per gli appassionati si intitola Famiglia un'opera d'arte riflessioni sull'amore e slettizia attraverso i grandi pittori e il nuovo saggio del sacerdote dell'Arcidiocesi di Oristano Giuseppe Panni allora sentiamo l'arte come elemento comunicativo per dare più forza alle parole dipinti affreschi capaci di raccontare perché no in qualche modo insegnare l'amore suscitando emozioni il saggio Famiglia un'opera d'arte riflessioni sull'amore slettizia attraverso i grandi pittori e tutto questo Don Giuseppe Panni, docente di teologia morale ha preso spunto da alcune delle opere d'arte antiche e contemporanee per esprimere ciò che la mente e il cuore pensano trattando dal punto di vista teologico-murale alcuni temi dell'esortazione apostolica di Papa Francesco a Morris Letizia ho trovato diverse suggestioni capaci effettivamente di arricchire ulteriormente quella che era la riflessione perché l'arte non ti fa comprendere la verità ti aiuta ad accoglierla comprenderla è soltanto razionalmente mentre invece accoglierla significa accoglierla col cuore il volume è un invito a percorrere l'itinerario della vita coniugale e familiare come la via della bellezza la famiglia vista come opera d'arte da amare e rispettare sempre con questo è davvero tutto non mi rimane che augurarvi un buon proseguimento e darvi appuntamento alle prossime edizioni arrivederci Grazie a tutti